Io non ho mai saputo che cosa voleva dire aprire un ristorante finché non l'ho aperto. Credo che la mia paura più grande sia quella di rimanere da solo, non quella di fallire, perché poi se fallisci, ma hai delle persone con te vicino, puoi sempre rialzarti. Io sono Tommaso Zoboli e questa è la prima volta.